Buonasera a tutti amici di AC Milan Inside e bentornati con il nostro TG. Mancano soltanto 20 giorni all'inizio del campionato del nostro Milan Futur come prima partita, ma vedremo impegnato contro Lentella il 25 agosto alle ore 20.45. I ragazzi di Bonera giusto ieri erano impegnati in amichevole contro l'Union Clodiense. Purtroppo il gol su rigore non è bastato e infatti la partita è stata successivamente ribaltata, portando a una sconfitta per 2-1. Manca sempre meno alla fine del calcio mercato esattamente 25 giorni e ancor meno manca all'inizio del campionato dove vedremo il nostro Milan affrontare il Torino. Il Milan è al lavoro per completare la rosa a disposizione per Mr. Fonseca e dunque questa potrebbe essere la settimana decisiva per due nuovi arrivi. Si parla logicamente sempre di Emerson Royale e di Fofanà. Tra i due nomi però il più vicino sembra essere Emerson Royale. Il lavoro della dirigenza comunque sia prosegue anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Sto parlando di Orighi e Ballosoree che sono comunque sia fuori dal progetto. Un altro potrebbe essere Adli. visto la simpatia che alcuni club sauditi nutrono nei suoi confronti. Ognuno è liberissimo di esprimere i propri pareri però personalmente Adli lo ferrei. Fatemi sapere invece voi che cosa ne pensate tra i commenti. Mercoledì esattamente a 1.30 di notte vedremo il nostro Milan impegnato nell'ultima amichevole della torne americana contro il Barcellona. Anche questa amichevole come le altre si potrà seguire su Dazon. Queste sono tutte quante le notizie di oggi e io come al solito vi invito a venire a seguirci su tutti quanti i nostri social targati HMILAN INSIDE.